L'ospedale, che sarà un vero modello di perfezioni tecniche, potrà ospitare ben 1500 ammalati. I ricordini Napoli per me sono bellissimi, perché io ero sempre in mezzo a questi giovani ingegneri, genovici architetti, insomma ho imparato tante cose da loro, vivendo nei cantieri. La medaglia della città di Napoli, in memoria dell'architetto Alessandro Rimini, progettista dell'ospedale Cardarelli, è stata consegnata questa mattina alla figlia Liliana in una cerimonia a Palazzo San Giacomo. Il professor Leonardo Di Mauro ha ricostruito la storia della struttura, la cui progettazione fu affidata a Rimini nel 1930. Abitavamo a Cappella dei Cangiani, in una villa delle Contessine Paradiso, che erano due sorelle, molto, molto, molto gentili, però non avevano né marito né figli, quindi io se volevo vedere qualcuno con mia mamma andavamo al cantiere. Dopo il 1934 la famiglia Rimini rientrò a Milano. In seguito fu colpita dagli effetti delle leggi razziali fasciste. Io sono stata sbattuta fuori dalla scuola, questo tanto per cominciare. Mio papà, malgrado fosse vietato lavorare, ha sempre continuato a seguire i suoi cantieri che praticamente erano intestati a delle persone ariane. Il Cardarelli è il più grande ospedale dell'Italia meridionale, non è solo il grande ospedale di Napoli ed è un momento importante, questo per molti motivi, non solo per raccontare attraverso la memoria pubblica della toponomastica cittadina chi è stato il progettista e il direttore dei lavori di una grande architettura civile come il Cardarelli, ma anche per raccontare come la storia del Cardarelli si intrecci con una vicenda non solo personale ma collettiva importante che è la storia italiana di quegli anni. Rimini era un architetto di religione ebraica, fu perseguitato con l'avvento delle leggi razziali. Il suo nome, come i nomi di tanti di quei tempi, è caduto nell'oblio per molto tempo, anche nella storia ufficiale dell'architettura del Novecento, è un nome che non ricorre con frequenza. Il papà, indipendentemente dalle leggi razziali, firmava tutte le sue opere con la mamma, cioè la rappresentava in tutte le sue opere. Il sindaco riconosce il nome e la memoria di un architetto che ha lavorato a una grande opera pubblica napoletana facendo anche il gesto che Napoli porta come tributo e come riconoscimento di riportare alla memoria, di riconoscere il ruolo di chi, per ragioni della storia, era stato dimenticato e obliterato nella storia pubblica dell'architettura di questo paese. Grazie